Allora, vediamo un attimo come ci si regista al portale Europeo per i giovani. Quindi, l'indirizzo web è questo, lo metto dopo nei commenti. Una volta arrivato al sito, si va giù, direttamente qua sulla destra, Corpo Europeo di Solidarietà. Si clicca sopra e ovviamente è importante leggere quello che c'è scritto, ci sono anche i FAQ, le domande più frequenti. Una volta confermata, allora, se siamo interessati a partecipare, partecipa anche tu. Quindi, dopodiché arrivate a questo, sign in with your email address, dato che è la prima volta che lo fate. Ovviamente potete utilizzare anche Facebook, Twitter, Google, oppure fare create an account. E vi iscrivete, nome, cognome, email, confermare la mail, la lingua e inserire il codice e fare create an account. Dopodiché controllate nella vostra email che vi deve essere arrivata questa email da questo indirizzo, authentication service, dove dovete cliccare per creare la vostra password. Perfetto, quindi dopo la prima registrazione, qua bisogna leggere un po' le informazioni. Quindi, la mission e i principi dei European Solidarity Corps, cosa sono. Si può andare a approfondire. Ripeto, il fatto che bisogna essere a meno di 17 anni per registrarsi. Bisogna essere di uno di questi paesi, cioè un paese EU member state, oppure di uno di questi paesi per partecipare. Qua parla anche dei traineeship e job, che sono aperti a tutte le persone di paesi dell'Unione Europea. e anche di Turchia, Macedonia e Islanda. Ovviamente la UK, l'Inghilterra al momento non è più disponibile a questo tipo di progetti. Poi qua si può approfondire ancora di più con degli allegati. E bisogna confermare quindi l'età di nascita e il paese di residenza. E andare su continuo. Perfetto, quindi dopo questa prima parte, Join the European Solidarity Corps, dovete riempire queste risposte qui. Io ho messo l'età di nascita spaliata, che se no non mi faccio registrare. E bisogna qua cliccare a cosa siete interessati. Quale nazionalità, dove siete residenti, se siete disponibili in un momento per candidarvi a progetti di volontariato o di traineeship e job. Se no, lo lasciate liberi. Invece qua, quale tipo di esperienza e conoscenza porti tu all'interno dei corpi. Io non ho cliccato niente. Ho cliccato qua, in my way lab, oppure se mi mette una data, per quanto riguarda, in generale, qualsiasi tipo di contatto. Il volontariato, se non l'ho già fatto. E poi qua ovviamente bisogna fare clic sulla privacy. E poi si fa su Join the Corps. Ottimo, finito il passaggio. Thank you for joining the European Solidarity Corps. Il prossimo step è controllare la vostra email. Perfetto, quindi una volta fatto, vedrete qua sopra, nella mail appena arrivata, dal corpo per il di solitarietà, vedete qua la mail, nomadehceeuroba.eu, your participants reference number, PRN, questo cuore lunghissime, ciò, period, bla 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 bla, perfetto. Quindi la registrazione è andata bene. Quindi ora che siete già logati, che c'è scritto qua anche, esci, invece di login, e basta andare sullo stesso sito, partecipa anche tu, e entrerai direttamente dentro il tuo account, dove trovate anche nuovamente il vostro PNR, e ci sono scritte delle opportunità, e eventualmente in futuro poi anche dei certificati qui, quando avete concluso dei progetti. Divertitevi!